un olio di fanta roda, pomodoro, sedano e qualche spazio come il coiamolo e la cucuma alla loro tavola veramente si mangia carne, formaggio si usano tante lecuni, lentiglie, fece il pano del cesto è sempre sul cuore i fagioli di solito si accompagnano molto di un'altra queste sono proprio le bimbi che sono vedi da fuori Il monastero ha un'orto di legge e dei vigneti di rinforzamento. Questo si vestita anche in verità con le tue ghiacce. La nostra dieta è molto legata alle festine per la regione. In questo momento viene prescritto in pochi di giorni. Non mangiamo carne, non mangiamo uova, non mangiamo ticini. Grazie a tutti.